Vogliamo spostarci ancora una volta su quello che succede tra Israele e Palestina, la storia di lungo corso in particolare gli ultimi mesi, questo conflitto scattato in particolare il 7 ottobre, tra le vari elementi che hanno puntellato questi mesi di notizie e di tragedie in mani, c'è anche la mossa, quello che è stato avviato dal Sudafrica cercando di portare alla Corte Internazionale di Giustizia Israele con l'intento di valutare se stia commettendo un genocidio in Palestina, dette in maniera molto brutale ma ne parliamo un po' meglio proprio tra un istante. Ne parliamo ritornando a dialogare con IRPI che si occupa di giornalismo investigativo in Italia, se andate su IRPI Media cercandolo sul motore di ricerca trovate una lunghissima serie di inchieste e di lavori di analisi e qualche giorno fa è stato pubblicato proprio uno di questi lavori di analisi da parte di Costanza Spocci e Marta Bellingreri e Marta l'abbiamo proprio in collegamento qui con noi e quindi la salutiamo, ciao intanto e grazie per essere qui con noi. Buongiorno Alessio, grazie a te e buongiorno a chi ci ascolta. Grazie assolutamente a te anche perché si tratta di questioni molto complesse, ci parlavamo fuori onda di come anche noi abbiamo fatto confusione in passato rispetto alla Corte Internazionale di Giustizia sovrapponendola alla Corte Penale Internazionale e quindi tu mi suggerivi appunto prima di cominciare a parlare del caso specifico, della vicenda specifica, di fare proprio un po' di chiarezza su questo. Che cos'è la Corte Internazionale di Giustizia? Allora, la Corte Internazionale di Giustizia innanzitutto è il principale organo giudiziario delle Nazioni Unite che ha competenza sulle controversie tra stati, tra gli stati che ne riconoscono la giurisdizione. Le questioni giuridiche che vengono sottoposte alla Corte Internazionale di Giustizia riguardano diversi casi tanto che la Corte è stata interpellata anche per l'Ucraina e la Russia e sono dei pareri giuridici autorevoli ma non vincolanti perché poi la Corte Internazionale di Giustizia non ha un potere coercitivo, cioè non può far poi rispettare queste sentenze e ha sede come organo dell'ONU, anzi è l'unico organo dell'ONU che ha sede fuori da New York, dagli Stati Uniti nella città olandese dell'Aia e da qui viene spesso la confusione anche per giornalisti di confonderla con la Corte Penale Internazionale che invece è nata nel 2002 a seguito della firma di diversi stati e dello Statuto di Roma nell'estate del 98. La Corte Penale Internazionale si esprime sui quattro crimini considerati più gravi genocidio, crimini di guerra, crimini contro l'umanità e crimini di aggressione e indaga però sulle responsabilità individuali e non degli stati rispetto appunto a questi quattro crimini i casi più conosciuti nella Corte Penale Internazionale, il più recente e più conosciuto è quello proprio che ha emesso un mandato di arresto per Putin e questo è stato appunto a un anno dall'invasione rossa dell'Ucraina tornando alla nostra Corte Internazionale di Giustizia in questo caso è stata appellata dal Sud Africa proprio per valutare se ci fosse un caso di genocidio da parte di Israele ovvero se Israele stia violando la Convenzione delle Nazioni Unite sul genocidio di cui è firmatario Esatto, questo è insomma quello di cui stiamo ragionando la Corte nel frattempo ha già cominciato i suoi lavori ha già emesso non un verdetto, non una sentenza ma in realtà per quella sappiamo che se il caso viene portato avanti è una tempistica di anni quindi non è qualcosa che dobbiamo aspettarci in tempi brevi e tutti noi speriamo fortemente che quando arriverà mai una sentenza questo conflitto sarà già ampiamente concluso lo speriamo davvero ma però c'è qualcosa che può fare la Corte Internazionale di Giustizia nel senso ad esempio si aspettava proprio negli scorsi giorni una sua decisione perché si immaginava che potesse come dire chiedere di congelare il tutto congelare il conflitto in modo da permettere i lavori della Corte ed evitare l'eventuale reato appunto di genocidio in futuro non so se l'ha spiegato bene e all'incirca così quello che è successo Allora sì, dopo che l'11 e il 12 gennaio alla Corte Internazionale di Giustizia si è ascoltato il Sudafrica e il giorno dopo Israele che ha fatto la sua difesa chiamiamola così il venerdì 26 gennaio quindi dopo appena due settimane la Corte si è espressa e in qualche modo è stato un passaggio importante perché la Corte non ha respinto le accuse mosse dal Sudafrica ma le valuterà come dicevi tu ci vorranno dei anni ma intanto ha indicato ad Israele di seguire sei misure provvisorie che riguardano l'obbligo appunto di astenersi dai atti previsti dalla Convenzione sul Genocidio quindi di prevenire e punire l'incitamento diretto e pubblico al genocidio e di adottare misure immediate ed efficaci per garantire la fornitura di assistenza umanitaria ai civili di Gaza di fatto anche se non si parla esplicitamente di un cessate il fuoco immediato queste misure provvisorie per essere attuate comportano quasi inevitabilmente la cessazione delle ostilità quindi se da un lato è stata accolta questa prima risposta è stata accolta sicuramente con delusione da parte della società civile palestinese da parte degli stessi civili a Gaza perché non si sono sentiti nell'immediato protetti da una decisione del genere dall'altro lato però secondo alcuni giuristi e analisti è positivo che la Corte non abbia fatto riferimento per esempio a quello che Israele pone sempre come primo punto la legittima difesa di Israele che di fatto Israele chiedeva di respingere l'intera accusa appellandosi al suo diritto alla difesa invece questa prima decisione di attuare queste sei misure provvisorie ci dimostrano che la Corte ha ritenuto invece plausibili gli argomenti del Sudafrica poi un'altra cosa importante da sottolineare è che l'ordine di cessato il fuoco non aveva avuto nemmeno effetto sulla Russia nel 2022 quindi probabilmente non l'avrebbe avuto neanche su Israele però come dicevo poco fa andando a rispettare le misure provvisorie della Corte significa arrestare completamente il conflitto inoltre i giudici della Corte Internazionale di Giustizia chiedono ad Israele comunque di presentare entro me sul rapporto su tutte le misure adottate per attuare le indicazioni le sei misure provvisorie quindi di fatto comunque Israele dovrà rispondere a questa Corte anche se non c'è poi di fatto non può la Corte farle rispettare farle attuare però Israele dovrà appunto dare una risposta Chiaro, questo mi sembra essere forse quasi l'elemento più concreto di tutti nel senso a qualche settimana da questa decisione appunto non si vede un'interruzione del conflitto non si vede un'accoglienza insomma da parte di Israele di questa comunicazione della Corte ma il fatto di dover creare questo rapporto evidentemente mette la questione su un livello che prima effettivamente non c'era qualcosa che però di interessante avete analizzato tu e Costanza Spocce all'interno di questo testo che appunto ripeto potete trovare su irpmedia.eu il titolo è l'urgenza della giustizia se volete appunto andarlo a leggere a cercare un po' più nello specifico è anche una di esamina un po' nel passato nel senso che magari abbiamo un po' la memoria corta ci dimentichiamo un po' insomma come con l'Ucraina immaginiamo che tutto sia cominciato con l'esplosione di quel conflitto lì invece chiaramente la storia è un tantino più antica e insomma non è la prima volta che viene interpellata la Corte Internazionale di Giustizia e non sembra aver purtroppo mai inciso insomma in maniera significativa Sì esatto Alessio in questo pezzo con la collega Costanza Spocce non abbiamo guardato soltanto all'attualità del conflitto dopo il 7 ottobre ma abbiamo cercato di individuare i passaggi principali degli ultimi 20 anni rispetto appunto alla giustizia internazionale intanto c'è da sottolineare che questo appellarsi alla giustizia internazionale nella questione palestinese e nel conflitto con Israelo palestinese è di fatto appunto recente perché prima il movimento di liberazione palestinese come anche ci ha sperato la Chantal Meloni che è un'avvocata penalista e professoressa di diritto penale internazionale all'Università Statale di Milano la stessa idea di ricorrere al diritto internazionale non era appunto considerata invece per la prima volta tra il 2002 e il 2003 l'autorità palestinese quindi l'organo politico palestinese nei territori occupati dallo Stato di Israele fa un tentativo di portare la questione di fronte a questa stessa Corte e nel 2004 quindi esattamente 20 anni fa c'era stato appunto un parere giuridico sulla costruzione del muro di separazione da parte di Israele che era stato considerato appunto illegale quindi comunque questo parere consultivo ai tempi è stato come dire un parere della Corte che è stato molto importante un riferimento continuo che si è fatto a questo parere nel corso degli anni anche se appunto di fatto il muro non è mai stato smantellato ma anzi è continuato ad esistere infatti sostiene anche il parere della Corte che gli stati terzi avrebbero dovuto quindi praticamente tutti gli stati e penso in questo caso anche gli stati europei avrebbero dovuto fare in modo che questo parere venisse rispettato quindi non contribuire all'esistenza e alla continuazione della costruzione del muro e questo è stato un primo passaggio della Corte Internazionale di Giustizia ma negli anni successivi in seguito anche al riconoscimento da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dello Stato di Palestina come Stato osservatore anche se non membre quindi lo Stato di Palestina di fatto viene riconosciuto all'interno dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un altro passaggio è stato quello di firmare l'autorità palestinese lo Statuto di Roma che come dicevo poco fa è lo Statuto alla base della creazione della Corte Penale Internazionale lì inizia un altro iter lungo con diversi passaggi che ha portato nel 2021 quindi solo due anni e mezzo fa ha portato la Corte Penale Internazionale a iniziare ad indagare sui crimini commessi appunto da entrambe le parti a partire dal 2014 in Israele e in Palestina però e questo noi lo sottolineiamo nel pezzo ancora non c'è stato nessun mandato di arresto e questo ci tendo a dirlo perché come abbiamo visto poco fa nel caso di Putin un mandato di arresto è stato emesso solo dopo un anno dall'inizio dell'invasione rossa dell'Ucraina qua invece c'è un iter lunghissimo e tuttora probabilmente questo 7 ottobre questa escalation di violenza questa campagna definita da molti genocidaria nei confronti della popolazione civile di Gaza probabilmente porterà a a dei risultati comunque a dei mandati di arresto quindi di fatto sta accelerando così come l'invasione rossa dell'Ucraina dei passaggi che in realtà hanno vent'anni di storia rispetto ai crimini più gravi e sì tutto questo discorso va anche un po' a confermare insomma a spiegare un po' meglio che cosa vuol dire quando diciamo che le Nazioni Unite molto di quello che accade in Israele tra Israele e Palestina va contro l'indicazione delle Nazioni Unite infrange risoluzioni dell'Assemblea rinfrange decisioni della Corte Internazionale di Giustizia questo vogliamo dire nel senso non è che si tratta di un'opinione di un sentimento si tratta invece di elementi nero su bianco che vengono appunto costantemente infrante allora ci sarebbe tantissimo ancora da dirci non abbiamo il tempo ma non vogliamo nemmeno insomma far sì che i nostri che i nostri ascoltatori i nostri spettatori evitino di guardare il vostro articolo che appunto va un po' più nel dettaglio lo si trova appunto su IRP Media lo ripeto il titolo L'urgenza della giustizia Palestina-Israele sotto le lenti del diritto internazionale Marta Bellingreri grazie davvero per questa spiegazione di questi elementi davvero molto complessi grazie mille alla prossima grazie mille buona giornata